Siamo a Tortoreto dove da pochi minuti si è concluso il primo consiglio comunale della legislatura di Alessandra Ricchi, 17 i punti all'ordine del giorno tra i quali l'ufficializzazione anche del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale. Nella folatissima sala consigliare del municipio il nuovo sindaco ha ufficialmente giurato, iniziando quella che è l'amministrazione con più presenze femminili nella storia di Tortoreto, 17 i punti all'ordine del giorno tra cui la nomina del presidente del consiglio comunale e del suo vice, cariche assegnate rispettivamente a Lanfranco Cardinale e Dolores Cimini. Sono stati ufficializzati anche il capogruppo delle forze politiche, Daniele Marconi per la lista di maggioranza e Flaminio Lombi e Luca Palanca per le minoranze. Confermate le anticipazioni date alla stampa alcuni giorni fa sui nomi della giunta che saranno oltre a Massimo Tarquini, vice sindaco, Rosita Di Mizio, Arianna Del Sordo, Renato Chichirichi e Rossella Di Pancrazio. I nomi dei presidenti delle commissioni consigliari permanenti sono invece quelli di Lilli Piacentini, lavori pubblici e urbanistica, Daniele Marconi, bilancio e Mauro Postoma per la dedicatissima e importante commissione di vigilanza. Al termine del consiglio comunale ci sono stati gli interventi dei capigruppi delle minoranze Palanca e Lombi, seguiti dalle risposte conclusive del sindaco Alessandra Ricchi. Sarà costretto uscire da casa per problemi familiari. Il regolamento del referendum, noi abbiamo proposto a più o meno questa giunta comunale, un regolamento per il referendum circa un anno fa. C'è la questione del commercio, lanciamo dei messaggi, però a questi messaggi bisogna lanciare anche qualche proposta, era questa l'idea generale. E' chiaro che si è trattato di un consiglio essenzialmente formale e di questo ringrazio la pazienza anche dei partecipanti, ma questa formalità è indispensabile proprio per entrare poi in un secondo tempo nei contenuti. Da Tortoreto, Luigi Prosperi, Open Web TV